Claudio, puoi mutarti? Allora... Ecco, per esempio, JamonGast sta passando di modo. Quale? Ehm... Ma di Minecraft? Ehm... La... cambia un attimo il titolo, e poi andiamo. Ehm... Detective Ciccio... ciccio gioco post 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 gioco post 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 ah no vero dopo devo farlo da youtube me l'ho dimenticato detectives ciccio cicci ciccio ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp mini 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 sassa prova nino no 1234 ok si sente l'audio il mio canale ok ci siete ok live rain si casa si edge che scrivo ok 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 portitore che cazzo scrivo? provo a parlare Genna provo a parlare Genna si sente ma si sente si sente ma si sente poco ecco ecco tutto ecco tutto ok si è pronto why you ok intanto che startiamo wow wow detective ciccio oh si finalmente siamo in difesa guarda scommetto che c'è anche banca guarda no eh perché Outback vabbè Domissions chi è Lucas B ciao Lucas B Lucas B c'è Lucas B boh sarà morto ecco Villa no no va va è nuova ah vero devo condividere la hive with my friends wow detective Conan Dioca Sì comunque ci ho messo la pancetta dentro Claudio Nella carbonara Eh lo so Dovresti prendere il pezzo di guanciale Tagliarlo Ma fare la crema con l'uovo Troppo complicato Fa davvero cremoso Formaggioso Beh Villa mi piace Qui dove ho fatto il no scoop tipo Nel buchetto là nel video di Instagram Eh andiamo qua Voi 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 Il cringe Sta prendendo sopravvento Ehm, mettete in muri raga No, ma non so, mettetevi che mette nel C4 Ok, mi sposto io, ragazzi Ok, raga, sono qui dal balcone Io dal balcone li so Ah, non mi ritrovo la grafica, sbaglio Ok, sono entrati Ace Dokebi Ok, si sono uccisi, vicenda No, non c'è più Ok, si sta solo Magari si riesce a fartelo là Guardo io, guardo io, guardo io, guardo io le cam, Claudio E come che si fa? Ah Ok, se ne sta andando Ok, sta entrando dalla finestra Da là sta entrando Come si fa a pingare? Ah, così Da quella finestra Ok, guardo un attimo io, le cam Ok, hanno fatto la cam fuori Crati e adverte se vengono qua dalle scale Ho messo una cam Sì Dove? Ok Uè, vabbè Ma questo qua è fortissimo Lo Stamir Che livello è? 146 Cazzo, ma è fortissimo Dai, ma che culo Ok Perfetto Che che rimane? Ok, qua dalle scale sta venendo Dai, Enderaptor Dai, Enderaptor Dai, Enderaptor Perfetto Perfetto L'altra d'attacco eliminata Missione completata Dai, me l'aveva vista anche prima Vabbè Trent'anni per sparare Andiamo 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 Non mi ricordo più niente Comunque Non mi ricordo di niente Cosa? Ok Ok Ops No, adesso tutti ho abbiato di senza niente Mamma mia Che schifo Difendete l'area e proteggetele Ricarica No, io ho com'era Dai, subito i muri Subito i muri Ok Dispositivo piazzato Muro rinforzato La squadra d'attacco ha trovato una bomba Pronti all'assalto E' troppo caldo E' troppo caldo E' troppo caldo E' riesco a fare la rotation su voi No, faccio qua No, no, ma qua mi devo mettere i video santo E' troppo caldo E' troppo caldo E' troppo caldo E' troppo caldo Ok 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 Drono Nel bagno Ok Ok Uno delle scredite vicino a me Uno sta dronando Mi avvisi Mi avrò visto Guardati le spalle Gennocchio Ha fatto slaggia Che è morto? Vigil Che è Vigil? Ok, le mie camo sono ancora attive Inoltre dovrebbe spottare Quella vigil che è morta Ma, ma da dove? Da me raga, da me! Ma non capisco da dove? Dalle scale dove sono io? Genna aiutami Quella, buttamelo quella, Genna Ok, basta, basta A quel feti c'era nomad, quindi Ricordo quando tipo, dovevo andare a mangiare era classificata, non potevo quitare vado alle bestie mi chitivano mia mamma mamma mia che tipo quando mi chiamavano non potevo mai venire sul remado deve avere tantissimo tempo per giocare andiamo a strada pranzo detective detective Conan 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 detective ciccio difendete l'area e proteggete le bombe i fatti contano più delle parole la posizione della bomba è comprometta mancano 10 secondi ancora 10 secondi bomba localizzata e di di attento state alla larga ma raga ma così mi rimettete di cazzo no 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 Che è morto? Claudio, sei morto tu? No, ma... Ma non si vede niente in sta mappa, cazzo? Sì, ma erano invisi, cioè, io vedo dei negri, Dio santo Che sparano a caso Non si vedeva niente in quel punto Ecco, crashato Claudio, Dio santo E rientro Oh, detective Ciccio Suino Grande Claudio Però non ci sei Sì, la recluta What? La recluta La recluta Boh, sarà un bug Andrà Sì, vabbè, siamo lì Sì, vabbè Sì, vabbè Sì, vabbè Che culo che è bravo che è avuto, eh Che culo che è bravo che hai avuto, eh Eh, guarda, tutorial chissà che i miti legioni gli avrà messo eh sono lì ragazzo sopra sono biblioteca e infatti no, no, vieni con me, vieni con me, vieni con me, genna uh huh madonna, genna ciao, tesoro, mi dissoco ciao no, genna, non andare ok, tato, jager in testa ah no, mi sa che a voi entriamo ecco appunto, un dio santo stamir dietro no, cioè, con la mia mentre butto la flashback mi ammazza ragazzi, mi sto raggando non poco ok, Claudio con il miti legioni, beh, dicevo io con il miti legioni vai, spamma, 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 entra, spamma, entra, spamma, entra, spamma, entra è lì, lì, lì no, ragazzi, ragazzi, ragazzi no, ragazzi, ragazzi no, ragazzi oh, mi, madonna, santa, ragazzi sai ragazzi, se perdavate così, dio santo no, eh, non faccio ranked faccio schifo ho il KD basso, vedi no, non si vede neanche il KD no, no, neanche non ne faccio faccio troppo schifo ho iniziato a voler giocare eh, buona, dai mmm, vado col commando 1.5, vai guarda, colgo io opzioni vediamo un attimo qua l'ABS se lo possiamo settare per bene eh, strano adossano dovete usare il drone per trovare una bomba sai come adossano sempre cosa? cosa? ah, sì, sì vabbè, l'avrà pagata il primo coglione eh, c'è uno qua che mi chiede se facciamo ranked insieme a lui boh, ditemi voi e non so boh, dimmi il tuo nickname e ti invito come ti chiami? xxmkpsxx ma fate ranked sì o no se no me ne vado e non lo so dimmi il tuo nickname ma dipende che rango sei fra io sono non classificato quindi non aspettarti tanto da me ah, io sono a rango 90 che rango è su 94 ma dov'è che sono? ma dov'è che sono? porca tre eh, ma c'è uno ora dai da me, da me no eh, sì, adesso non posso zitto zitti ah, se stai zitto mi fai un favore eh, sì, adesso non posso vabbè, verso ta 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 ecco faccio schifo mi puoi aiutare fra, faccio schifo io a giocare oh, ma che mire non ha ma ce l'hai un team no, bro non gioco mai in rainbow adesso ho iniziato a giocare da un po' di tempo che non ci gioco dai, andiamo qua facciamoci pushare malissimo vai, andiamo con blackbird come ottico 3-0 che palla ecco perché non ci giocavo più ora mancano che mettono gratis rainbow e siamo a posto dovete usare il drone per fregare una bocca è una Tom Clancy intendi ma guarda che è più che l'ha che te l'ha messo gratis perché l'ha comprato perciò perché era il suo di proprietà perciò l'ha messo gratis un'atomo clancy noto un'atomo clancy non è pd insomma sarebbe epigames saremo si esige indietro un'atomo bro sono sempre là era qui mi ricordo ok ok andai che andiamo un'atomo clancy non ci guida Grazie a tutti 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 Quando è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Noi Grazie a tutti 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 Andrà meglio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti